Ciao a tutti, oggi parliamo ancora di lutto, questa volta della morte del proprio animale di compagnia e delle risposte funzionali da dare al proprio bambino e ragazzo. Con grande piacere che presento questo nostro libro scritto a quattro mani insieme all'imprenditrice di Ivrea, Paola Cavagnetto. Un animale, quando lo accogliamo tra le mure domestiche e gli diamo anche un nome, lui diventa subito membro attivo della nostra famiglia. Il nostro compito in pratica sarebbe quello di accudirlo, nutrirlo, farlo giocare, parlargli, dagli suoi tempi e suoi spazi, curarlo quando ne ha bisogno e soprattutto stargli accanto nel momento della morte. Questo nostro libro è un lavoro a quattro mani, con due esperienze differenti e importanti, come Yin e Yang. Con questo nostro secondo saggio, io e Paola Cavagnetto, vogliamo esservi di aiuto, dandovi lo strumento giusto alle domande che i vostri bambini e ragazzi sovente fanno in questi momenti molto importanti per la loro crescita. Ti ricordo che questo libro lo puoi trovare anche su Amazon. A presto!